Sono 17 le ordinanze di custodia cautelare disposte dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di altrettanti soggetti, eseguite nel corso della notte dai carabinieri della Compagnia di Agropoli. Una persona è finita in carcere, 12 domiciliari e 4 sono invece i divieti di dimora. I coinvolti sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito e dallo smercio di cocaina e hashish mirato in particolare al controllo delle piazze di Capaccio Pestum, Agropoli, Albanella, Trentinara, Rocca d'Aspide e Castellabate. Coinvolti nell'operazione Marco Grimaldi di 27 anni, Vincenzo Tortora di 28, Carmine Marrazza 44, Mario Menichini 44, Simone Saturno 21, Giancarlo Rossi 32, Salvatore Maresca 36, Luigi Stabile 42 anni, Gianluigi Strianese 26, Chiara Donnabella 27. Il blitz di stamane è stato eseguito con l'ausilio dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, il nucleo Cinofili di Sarno e il settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Alcuni dei soggetti coinvolti erano già sottoposti a precedenti misure. Le indagini erano partite da una serie di controlli che avevano permesso di individuare soggetti in possesso di droga e coltivazioni nascoste nelle campagne gilentane.